Da quando è stata presentata la Subaru LeVorg è stata confinata soltanto in Giappone per l'esigente quanto competitivo mercato interno. Ora per fortuna invece che questo limite è stato superato può gironzolare tranquillamente anche in Europa. Anzi sul mercato europeo Subaru ci crede molto proprio perché considera questa LeVorg una sport führer. Quindi più dinamica come assetto e impostazione di base rispetto alla Legacy. Le misure non mentono, lunga 469 cm, larga 170 e alta 148 cm, numeri che dimostrano la sua agilità. Di grosse novità per questo modello non ce ne sono se non quella appunto di aprire la sua vendita sul mercato europeo. Allora andiamo a sottolineare di nuovo quelli che sono i suoi punti forza. Agilità, compostezza e una buona capacità di carico. Diversi saranno gli allestimenti consentiti anche se per comodità seguiranno le versioni dei motori scelti. A Ginevra è tutto pronto per l'85esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile. Si va dai nuovi modelli alle Comset Car e agli studi di design e noi siamo qui per farveli scoprire da vicino. Noi siamo pronti per tenervi aggiornati in diretta da Ginevra e voi siete pronti? Restate connessi! Restate connessi!